Grazie a tutti. Sono state molto brave in distanza al muro, ci hanno messo ogni più patà togliendoci le nostre sicurette e nonostante abbiamo attratto delle reazioni, non sono state costanti e purtroppo il campo ha deciso che questo giro doveva vincere loro. Qualche difficoltà a giocare qui al palais? Vabbè, io non mi piace crearmi alibi e quindi bisogna eseguire la palla e non farlo cadere per terra. Poi dove sei, sei. Che colore avrai? I capelli verdi? Avrai di bianco e blu, colori del cuore. Ok, bocca al lupo. Beh, grazie.